Io rido. Amaro, ma ridi. No, perché tanto è inutile, è una battaglia. Tino, ricordi il dottor Damiani e sua moglie Maria Elena? È chiaro. Vi avevamo raccontato la loro storia perché purtroppo avevano rubato il Fiat do Bloch e grazie a Dio i ladri travolti da un insolito momento di dignità e di rispetto l'avevano restituito, ma c'è sempre un però. Purtroppo, caro dottor Damiani, c'è questo problema della continuità delle terapie a Maria Elena. Continuità terapeutica, sì. Non si riesce ad avere una... Maria Elena è tanti come lei. È una peculiarità, diciamo, della casa, della ASBARI. Sembra, almeno a sentire gli amici e i suoi colleghi di sventura di altre città della Puglia. Cioè, si fanno delle... lei ha bisogno di fisioterapia motoria e di logopedia. Viene il fisiatra a casa o il neurologo, ordina delle prestazioni, 20-24, finite e esaurite le quali queste sedute, poi niente, rimane senza in attesa di altra visita fiscale che può avvenire anche dopo uno o due mesi, come in questo caso sta da due mesi oltre. Come se Maria Elena potesse guarire. Sì, perché vengono a controllare se quelle terapie hanno portato beneficio fino alla guarigione. Naturalmente, siccome la sua patologia è che è una scherosi multipla, non guarisce, tranne se ci sono i miracoli. e allora ecco che accade che sono anni, anni, decenni di questo atteggiamento derivanti da precise volontà. Mi dispiace dirlo da medico, ma sono colleghi che secondo me hanno anche... Della stessa... Sì, va bene, non ne parliamo, che poco hanno a che fare né con la medicina né col codice diontologico. Detto questo, finalmente arriva il neurologo e prescrive oltre alla sua competenza anche una logopedia. Viene, si rende conto, non la conosceva mia moglie, un collega, se volete lo cito in maniera positiva, dottor Carlo, veramente persona degna che sa il suo mestiere, vede la situazione di mia moglie e conferma. Poi chiama... L'ufficio... L'AS, diciamo ex CTO, la responsabile del servizio di abilitazione e a quale dice no, non puoi prescriverlo, tu lo devi prescrivere per forza il collega fisiato. E siamo al 21 marzo Tino 2022, solo che stiamo ancora aspettando il fisiato. Sì, ma sa, mia moglie è interrotto da febbraio, perché sembra che il collega che doveva venire ha avuto un infortunio. E che si fa, siccome c'è quello che ha avuto l'infortunio, non si va da nessun'altra parte. Non c'è un sostituto... No, è venuto il neurologo, il neurologo che è una persona tra le altre esperte, io poi l'ho conosciuto per telefono, e mi ha detto che proprio su questa malattia ha pubblicato lavori scientifici, ha lavorato... Era assolutamente competente per poter... Quindi ha visto, insomma, la fisioterapia, quello che sta scritto lì, che ha della disfagia, cioè difficoltà a ingoiare e a parlare, anche a respirare, la logopedia... Non è la logopedia quella fatta per migliorarsi... Non è la logopedia quella fatta per migliorarsi... Non è la logopedia, l'addizione, certamente no. Serve per la respirazione e per altre, diciamo, funzioni fondamentali, come la disfagia, cioè per migliorare che possa... Strossarsi, praticamente. E a questo punto, però, l'è disposto ad andare ben oltre la semplice lamentela, perché la misura è colma. Sì, ho fatto una diffida all'ASL, già scritto all'avvocato... Sì, ma non ho avuto... Sono otto giorni, sono passati inutilmente, otto giorni... Venerdì l'altro, più di otto giorni, dieci giorni fa... Adesso farò una denuncia penale contro la responsabile del servizio, perché lei è responsabile di questa disorganizzazione. Non mi interessa più, anche se scrivono 20 sedute, 30, devono essere senza soluzioni di continuità, perché non è la fisioterapia motore, non sono i massaggi di bellezza, non è un massaggiatore fisioterapista, un professionista molto ben preparato, devo dare atto che sono persone preparate, come il logopedista. Esercizi di respirazione, esercizi su diaframma, esercizi per chi ha l'insufficienza respiratoria, perché questa malattia porta a un'ipotonia, cioè l'ipofunzione dei muscoli respiratori, e quindi anche difficoltà, naturalmente la respirazione, nella affonazione. Se io non respiro bene, non riesco a parlare bene. Maria Elena, in tutto questo... Io rido, io rido. Amaro, ma ridi. No, perché tanto è inutile, è una battaglia. Io ad esempio la R non la riesco più a dire. E gli esercizi ti aiuterebbero? Da solo la rifaccio, per quello che riesco a fare. Dino, è sempre una battaglia, io lo dico sempre, la burocrazia ci ammazzerà tutti, ma spesso ci ammazzerà il comportamento di alcuni dei burocrati, non della burocrazia in generale. Parliamo di burocrati, eppure sono medici, lavorati in medicina, e anche per questa signora, perché non la considero un medico, ho chiesto anche l'intervento dell'ordine dei medici, perché io andrei a parlare una volta, il battetto la porto in faccia, c'erano testimoni, adesso basta, c'è un limite, anzi proprio se voi potete anche chiedete a che punto è quella pratica al presidente Anelli, perché si fanno i corsi di ontologia medica, dobbiamo essere tutti bravi, corretti. E beh, io come medico ti chiedo anche un'attenzione, l'avete vista la gravità, non è che mi sto... Ma per lei, per tante altre persone, che voi potete benissimo intervistare, che stanno in attesa, per mesi di queste prestazioni, rimangono senza prestazioni, senza sedute, in attesa della visita, saranno pochi medici, non è un problema mio, le assumessero, perché più terapia fanno, meno fanno ricorso agli ospedali, e meno costano, visto che adesso si riduce tutto a un discorso economico, non come sta una persona, non il risultato clinico, allora interessa risparmiare, e semmai da quel risparmio guadagnare, perché io se primario ottengo dei risultati economici, allora il premio alla fine dell'anno, non funziona così con la salute, non è l'automobile che più produce, più premi hai, e qui si parla di persone. Si parla di persone, speriamo che si possa ottenere quanto prima, non solo per Maria Elena, ma per tutti i disabili in attesa di una terapia, la risposta che si deve dare. Tino, per ora, e solo per ora, è quasi tutto, perché poi ci faremo dire dal Dottor Damiani, se abbiamo risolto il problema, a chi diamo la linea? Tino, all'ex CTO, agli uffici della ASL, chissà, magari il Direttore Generale Sanguedolci, il neo direttore sanitario demisivo, potrebbero intervenire anche loro, qualcuno intervenga.